No boxing qua, vedete la chiave come ci sta la cover Peppe c'è solo questo? C'è Giuseppe qua Lui l'ha detto ai miei pacchi Se volete spedire Te l'hai che sta l'ambolo Allora lo faccio vedere Sei un bar A boxing di Harry Potter per Kinect E tu donno, diventando un mago vivi in momenti topici dei film personaggiando i tuoi personaggi proprio te stesso Lancia incantesi Sando il tuo corpo e la tua voce C'è tanti duelli Da uno a due giocatori con Kinect giustamente Aspettate ragazzi Peppe quando mi arriva sto pacco? Oh spegnete sta canzone Allora qui c'è Kinect Vediamo manualistica Base qua ti spiega tutto Incantesimi base con fare le incantesimi Vedremo vedremo Vediamo che bello Vediamo Ah per vedere Con il buon studio Se ci vorrei andare Scrivete nei commenti Se volete Scrivete nei commenti Di Nedru Va lì Questo è il dvd Il porter Kinect Per questa è per la nuova Per la postazione dove c'è il pc Una lampada Una semplice lampada A led Dove si può caricare usb Ragazzi Direi che è finito Questo è il lambo sync di Harry Potter Richiede il sensore Kinect Giustamente Bellissimo Sono un fan di Harry Potter Ci divertiremo con Harry Potter Kinect Sì Grazie a tutti